La polizia e persino il presidente degli Stati Uniti non avevano alcuna autorità su di noi. Era Warren Jeffs il nostro presidente. Lui era il profeta. Quale uomo poteva mettersi al di sopra di Dio? Più mogli e figli si hanno, più si sale in paradiso. Se tua madre e tuo padre ti dicono qualcosa, tu gli credi perché sono i tuoi genitori. Dovevamo sottometterci per la salvezza. Poi un giorno aveva fatto il mio nome. Dovevo sposarmi. Avevo 14 anni. Warren Jeffs ha preso il controllo di questa religione trasformandola in denaro, potere e sesso. Le ragazze erano considerate una merce di proprietà della chiesa. Warren aveva 78 mogli, 24 delle quali minorenni. Opporsi a una chiesa multimilardaria vuol dire andare contro un'esistenza di condizionamento e di paura. Li aveva privati della casa e della famiglia. Tanto valeva metterli contro un muro e sparare. Non si combatte il sacerdozio, non si combatte il profeta. Era un discorso molto più grande di Warren e me. Succede a tutti alla fine. Rinsavisci, vedi la luce. E pensi, ma che c***o. Rinsavisci, vedi la luce. Rinsavisci, vedi la luce. Rinsavisci, vedi la luce. Grazie a tutti